Amici, friends, sapete che cosa sto per dirvi? Sapete di cosa sto per parlare? Sto per parlare del live che è imminente, è sempre più vicino, è nulla, doppia manche, che vuol dire doppia l'eliminazione, che vuol dire doppia ansietta, però sono comunque contenta di quello che porterò, as always, io sono sempre contenta di quello che porterò. È la prima manche, ci divertiamo, è un po' a prendere in giro, lo so raga, è la mia cosa preferita, il fatto che sia un po' a prendere in giro, perché mi hanno tutti chiesto, torna a fare le cose classiche, ti prego, please, e invece no, invece no, dance monkey con l'orchestra, mi fa un po' ridere questa cosa, e poi mi piace tanto musicalmente, mi casa, mi diverte. Seconda manche, abbiamo una forte voce, ieri dei Beatles, porterò, mamma, 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 che roba potente, boh, spero di non venire eliminata per questa cosina, insomma, spero di non venire eliminata nella mancia orchestra, perché mi piacerebbe molto cantare ieri degli scarafaggi. Ho un po' di paura, ma sono molto serena in realtà, non ho più nulla da perdere, ho dato tutto quello che avevo da dare, il mio percorso ha preso una bella piega e sono sicura che continuerà anche al di fuori di qui, quindi sono solo contenta e grata di essere arrivata dove sono, quindi come andrà, andrà, speriamo bene, come sempre, ma in caso andasse male, bene così, bene così, bene così, sì, guardate questa chitarra dice aaaah, non so se si vede, dice aaaah, dice aaaah, aaaah.